Eeeh whattai a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Oxenfree Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi di nuovo sono successe tante cose brutte Il nostro obiettivo attuale è quello di riunirci con i nostri amici sempre se dovessimo riuscirci Dopo aver fatto un patto diciamo così con le presenze dell'isola Lasciando loro libere decisioni su Clarissa nel senso li abbiamo smollata e via così Per cui visto che io non vedo l'ora di vedere cosa succederà Anche io sono contenta Che tani Ok so there it's out in the open we're both glad Ok good So that's it Ok e now we can go back to the whole escaping and trying to live another day thing Ok perfetto E andrà tutto bene su via Ma si infatti Bene Mi sa che devo scendere qua ragazzi No 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 da qua dal ponte ok Sono curiosa di vedere cosa succederà alla fine di tutto ragazzi Perché con queste presenze è vero hanno minacciato i nostri amici Più e più volte Non so abbiamo fatto il patto dando loro Clarissa proprio per evitare che potessero fare del male ai nostri amici Però boh noi vogliamo tipo fermarli in qualche modo Quindi magari potrebbero arrabbiarsi e prendersela per sta cosa E le cose non potrebbero andare poi tanto bene Ok sono le 5 Ok 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 Eh No No Oh I didn't screw up How was I supposed to know her mom was gonna call in the cars stolen? I thought she had permission Give me a break Even if you didn't know Which come on Even if you didn't know that You still knew you didn't have permission to go to the concert Just tell me it's the last time I hear about you stealing a car Non è stata colpa mia davvero Che significa? Quale progetto è stato? Quale progetto è stato? L'amore 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 Salvi Bene Adesso possiamo andare Ok Ok Basta perdere tempo Possiamo entrare Che c'è? Ohhh Ma dai Che cosa tenera Va bene Che dici Janos Lo so ma Visto che ci siamo Un abbraccio non si nega a nessuno Che cosa tenera Davvero E' il momento raga Andiamo Ok non c'è nessuna presenza strana Nella foto Le facce sono un po' sconsolate Alcune ma L'unico felice è Ren Era felice come una Pasqua Eh non c'è nessuna E' un senso Non c'è nessuno Che sceglie Che sceglie Ma Mi Ma C'è nessuno che senti E' un uomo che è lungo Ma Che Ho E' un uomo che N'è un uomo che E' un uomo che Non ci sia va bene il punto è che questo posto è assolutamente è assolutamente inquietante tutto questo qua cosa c'è? è assolutamente incontro, certo? i cittadini? pensavo che si avrebbero dormito qui mentre il resto di noi si è burnato? sì, ma pensi che avrebbe funzionato? come se... se Yugoslavia o chi ha avuto un A-bomb in le mani no, pensi che avrebbe funzionato c'è abbastanza di concreto qui per salvare loro da mutare è arrivato il momento no, perché sfondarla? scusa, c'è una serratura qua che raga, non c'è... ah, aspetta, qua eccola qua ui con chi stai parlando? usciremo tutti da qui, dai ma perché parla al plurale? ci sono solo io qui va bene, d'accordo non andare lì non andare Jonas probabilmente un troppo chietto fermo, fermo fermo lì sì madre mia sì Sì, sì. Dovremmo andare. No, non la sento, Jonas. Vediamo, vediamo, aspetta. Vediamo, vediamo, aspetta. Dovremmo andare, certo? Dovremmo andare, certo? Ok, ok, ok. Io proprio non posso... Io proprio non posso... Io proprio non posso capire questo? Eh... Jonas! Oh no. Oh no. Adesso mi chiedo, c'era la possibilità di non fare questa cosa? C'era la possibilità di non far sì che Jonas sparisse? Sono rimasta sola, ragazzi. Sono rimasta sola. Eeeh! Yeeeh! Eeeh! 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 Che senso? Oddio. Oddio. Padre mia, ragazzi! Che diavolo sta succedendo? Vediamo cosa succede. Oddio, Gesù. Nemmeno io sa cosa sto facendo. Oh no! Dimi idea! sta per esplodere tutto che succede ehi questo è il fondale marino oh mio dio cosa succede ci potete scommettere come to close the hole I've come to to do what Maggie Adler tried to do 50 years ago all right okay well it didn't work then why would it work now god you're so spoiled you don't even know the cost of things closing the hole with your stupid toy will spare your your friends from our bloom sure but it will seal you up in here with us you'll die with us again and again you're just trying to scare me that isn't that can't be the only way one last chance you don't have to die you can leave you know through the gate you opened and we keep the girl Clarissa impossibile come posso sistemare tutto so they built a monument for you how could you say that everyone forgot oh the monument the memorial the hunk of metal it's a bomb for their injured pride that they let one of their own fall it won't hurt we don't think the change but we hope the trip was worth it same depraved tourist track they built on our corpus did you see the gift shop you can buy a little summery that sort of thing this whole little community is for you they built it up around fort milner and for the soldiers that died it's all about that it's not four hours we've twisted our bodies screeching two inches from your faces for you to to see us and you never do this conversation is meaningless so 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 ragazzi che avevo detto che avrei abbandonato Clarissa però visto che siamo qui a questo punto ci deve pure essere qualcosa che posso fare scusa per riportarla con me smetterò se ve ne andate pacificamente no daje daje ok smetti di parlare ok raga forse questa cosa ci chiuderà qua per sempre no forse no no lo so wait time out alone we are all on the same side porn girl joined in always this is for my friends malison youth it is the road of the middle no non può essere ci deve essere qualcosa che posso fare no no design no no non è stato addio che è stato addio E dall'altra parte Oh no Oddio Questa era quella che si vedeva nel riflesso Era lei Oh mio dio no no Siamo noi dall'altra parte Nell'altra dimensione Era lei Eravamo noi comunque Non far parlare Jonas con sua mamma Non lasciare Jonas parlare con sua mamma Non è buono per lui Sua mamma è morta Sì che sua mamma è morta Come è possibile? Cosa sta? Michael dovrebbe andare a stare per conto suo Cioè ragazzi è veramente finito così Cioè che Alex è rimasta bloccata nell'altra dimensione Perché non ho voluto abbandonare quella stronza Alla fin fine Madre mia raga Avrei potuto andare via con gli altri ragazzi E non l'ho fatto per provare comunque a salvare lei Oh hey I didn't even know you're home You're always so quiet It's like living with a little fairy tale mouse Wait I'm This is our house I'm not I can't play Amnesia Spy Girl right now Seriously Pretend to snap Ren's neck on your own time I've been like struggling with this stupid speech The graduation thing I don't want it to be just the usual blah blah We've come so far type stuff It should have like a point right? It should bring you to your feet about something Uh sure Yeah Give it a theme I'm guessing mom probably told you about my scholarship to state right? I don't really know how I feel about it I mean I feel It's not like it's a bad thing It's a good thing obviously What? That's great Congratulations I mean that's awesome Uh Thank you Thanks It's just you know It seems like half the teachers are alumni And Actually I'm about to be really arrogant and presumptuous And say mean things for no real reason Other than I think I know better So forget it I'm bored you enough I'm boring me right now Kill your agent No 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 Keep going It's fine I hate people too You can rag on the town What? You think the teachers are wasting their lives? Well they are wasting their lives All right Okay Thank you But really Never mind It had nothing to do with anything Listen Here's the You can't tell mom or dad But Clarissa and I aren't talking about just leaving Getting an apartment somewhere And just doing our own thing You know What? Mike You're kidding me right? I mean I know you said you were gonna commit or whatever But isn't running off like you're in Badlands taking it a bit far? Oh come on It's not that crazy She's been really pushing for it Wanting to look for places And I'm into the idea I really am I just I wouldn't feel right about it If I didn't have your like Blessing first So Can you just wave your hand over my head or something And say I'm alright to do this? Michael You You have a lot that you can do And a lot ahead of you And And I don't think tying yourself to your high school girlfriend in such a risky way Is the smart play here It's not supposed to be It's not supposed to be the safe play That's like the whole thing of it But I know what you're saying Alex Just Get good friends okay? And When you're with those friends Just say yes to everything And Keep away from boys When you talk to them It feels like you're performing But also Stay away from girls Who look you in the eye for too long And match every beer with a water And take classes outside of school Classes you don't need Michael What is What's this for? What are you doing? This is just This is a just in case package okay? Just in case I'm not around And I love you And you're amazing And that's it So I love you too I love you too I love you too I love you too But soon I shall be so I cannot remember Any But the things That never happened Yeah I I don't know Hey Look who's finally awake Maybe Don't get up immediately I love you too Did we Um When Oh yeah Big time Wire to wire finish I don't know about wire to wire He doesn't know about sports honey I know I just I know I just Yes We won The tuning we did in the cave It worked The ghost are gone We're going home Or at least they've Come fa Michael Ad essere qui Scusa Michael ha negato I cannot believe What I'm hearing Michael drowned Very tragically Last year I mean Clarissa Come on Of all people Verify here Verify what I don't know What the hell You're talking about Yeah I mean You saw lots of Bad stuff Yeah Don't you remember It's been you and me All night We did the call To open the Bomb shelter Jonas That was Jonas And I Jonas and I Slogged through the forest To get Ren Jonas and I Went Alex I was with Ren When you and Mike Picked us up I mean Jonas has been With me the whole time Which You know Terrible way To show you What we do here For fun By the way Sorry about that I mean I invited the poor guy He just moved here With his dad And Yeah We know He picked you up In gym class So you can dunk The ball Ren Ha portato Jonas Ren You brought Jonas He's your friend Yeah Man You've really been Affected by all this I invited him Because he's new In town And And whatever Yeah And he turned out To be a cool guy So what's the problem Thanks Alex You're acting like I don't even know He's a cool guy That's not the point I'm sorry What What is the point Yeah What's What's going on C'è dimenticato Tutto Steniamocelo per noi Let's make a pact To just Keep it Like Hours It's only Our thing It happened To us And Nobody else Has to be involved Are you kidding You almost traded Me Okay look Everything worked out She did the right thing Ero disperata Merda Merda No matter what you did Alex That's all that matters Hey Is this your book Oh man This is We're gonna be The best couple ever Okay Slow down I lost it on the way I thought for sure Some commuter Would have just Tossed it overboard Hey That reminds me What were we We were talking about Something stupid Right before Alex woke up Prom Prom Yeah Clarissa What color is your dress So I know what corsage To get Purple Purple Probably Royal purple Are you going Alex Wait Are people who are ready Graduated allowed to take I guess I mean If I find a date You know I'm not gonna go stag I have my dignity Ben Owens will ask you Or rather He's going to ask you Unless I physically prevent him Eh You can do better Oh Alex You want to go dress shopping With me and Nona It'll be fun It'll be like a movie montage Except Of course None of us are prostitutes And there's no rich guy Oh Uh Sure I mean Only if you want to Of course I want to I'm asking you to Well go to Reggie's If you can find a stained one You get 50% off All right You know what It's picture time Oh my god Come on Oh come on We earned this one Yeah I guess we should Tonight's been Um Noteworthy Noteworthy That is A way to say it Yeah I'd probably say it Another way Let's um Let's actually move outside So we can get to light Sure Ren what is that book Anyway I don't know I can hardly make heads or tails Out of what the hell He's talking about Half the time Here's good for the Yeah Just here Like look I'll just pick a random ass page Come on Alex Like this Here When I was younger I could remember anything Whether it happened Or not But soon I shall be so I cannot remember any But the things That never happened Yeah I I don't know Sorridi All right Shut up Cheese Before we'd left I told my mom I was spending the night At a friend's house And when I got back I didn't see any reason To change that story And you know what I still don't The island did one good thing Forcing Ren and Nona together Which is nice Because they're still together Actually Though they go to different schools now Trying out the long distance thing I guess Clarissa fled to the east coast Dropped out of college And works at a boutique But any snippets of her life I hear from Michael They're still dating Kind of Really Only when she visits She'll never come back though I know that for sure Not after that night Tu e il 3% Vi siete fatti odiare a Clarissa Salvando la sua relazione con Michael Since Michael never left We never had our Going away thing at the lake And so he never drowned He stayed in town To get an engineering degree He's Content But I think he's secretly planning To move to New York For Clarissa I guess We'll see Tu e il 15% Avete riportato in vita Michael E' salvato la sua relazione Con Clarissa Fazzisco Though I held out hope For a while That he would We still hang out All the time Though He goes to school In town I call him My other brother Not to his face Don't tell Mike Io e il 17% Abbiamo stretto un legame Con il nostro nuovo amico Jonas Sto prendendo una pausa I'm taking some time off Allora ragazzi Con mia enorme sorpresa Abbiamo finito il gioco Non me lo aspettavo ovviamente Di finirlo oggi Però vabbè Così è andata Abbiamo avuto un finale Direi pressoché felice Comunque Perché sono riuscita A riportare in vita Michael A quanto pare non era scontato Che andasse così Perché abbiamo visto Che c'erano delle percentuali Ragazzi E quindi c'erano Diverse possibilità E a me sono andate Quasi tutte bene Effettivamente Perché Ren E nonna Si sono messi insieme Michael è tornato in vita Comunque Ha preso la sua laurea In ingegneria E ancora con Clarissa Però insomma Non ha Questo insomma Non ha Come si dice Andato all'aria I piani di vita di Michael Comunque E niente Siamo rimasti amici di Jonas Per cui A me è andata relativamente bene Non me l'aspettavo Comunque Tutto dipendeva Dalle varie scelte Che si facevano Durante il gioco Io non sapevo Che le scelte fossero Così importanti Effettivamente Riguardo L'andamento Della storia E mi sono fatta guidare Dal mio istinto A quanto pare L'istinto Mi ha guidata bene Direi Allora Che dire Generalmente Ragazzi Su questo gioco Devo essere Proprio brutalmente Sincera Ragazzi Non ho Seguito Proprio alla grande La trama Infatti Non mi sono rimaste Chiare alcune cose Per esempio Come è possibile Che alla fine Michael sia tornato in vita Probabilmente Non so Magari attraverso Qualche squarcio Spazio temporale Siamo riusciti A tornare indietro Appunto Effettivamente Così Ad influenzare Le scelte Di Michael Facendo in modo Che lui non morisse Suppongo insomma La spiegazione Sia questa Per il resto Appunto No vabbè La storia di per sé Non è difficile Certe volte Ragazzi Facevo un po' fatica A stare appresso Magari a tante dinamiche Però è stato interessante Direi che è stato interessante Il gioco di per sé Generalmente Non mi ha coinvolto Emotivamente Più di tanto Però direi Che generalmente È un bel gioco Un gioco Magari comunque Da fare Almeno una volta Ed è altamente Rigiocabile Perché ovviamente Abbiamo visto ragazzi Quante possibilità C'erano E quindi C'è la possibilità Di vedere Come vanno le cose Scegliendo altre Opzioni di dialogo E così via Dal punto di vista grafico Il gioco è molto Molto semplice Nonostante questo Comunque gli scenari Sono grandi ragazzi Sono ampi Ben caratterizzati Anche direi E c'è probabilmente Anche una componente Di esplorazione A cui ovviamente Io non ho dato poi Tanto peso Come sempre Belle comunque Le colorazioni Diciamo che Comunque questo gioco È molto particolare Quindi non è il solito Gioco magari in terza persona O in prima persona O in prima persona No E comunque Guidiamo un personaggio All'interno di questi Scenari che non sono Proprio totalmente 2D Però è molto caratteristico Secondo me Dal punto di vista sonoro Secondo me il gioco È fatto molto bene Perché comunque Gli effetti sonori Sono fatti bene E anche le musiche Quando ci sono Direi che coinvolgono Parecchio Il videogiocatore Dopodiché Rigiocabile Lo abbiamo già detto Assolutamente rigiocabile C'è la possibilità Di fare tante scelte Di dialogo E quindi far sì Che le cose magari Vadano in un modo diverso Quindi anche questo È interessante Per il resto ragazzi Il gioco Oddio non è Vi devo dire la verità Non mi ha entusiasmata Più di tanto Comunque Diciamo che l'idea Di fondo È figa Comunque Però Personalmente parlando Non appunto Mi sono sentita Poi così gasata Durante tutta l'esperienza Di gioco Mi sono sentita Sempre un pochettino Distaccata Non so se sarà stato Un problema ragazzi Del fatto di dover Seguire comunque Sottotitoli E quindi magari Sapete Non ci si concentra Tanto sulla scena Eccetera Quindi forse Questa comunque È una pecca mia Quindi non dico Che il gioco Non sia capace Di coinvolgere Però personalmente Parlando Non mi ha entusiasmata Proprio a livelli stellari Per cui mi sentirei Di dargli un set Comunque L'idea Ripeto Di fondo C'è È interessante È bella comunque La possibilità Di fare tante scelte Di dialogo Per avere Tanti riscontri Diversi Per cui Io ringrazio ancora Marco Che comunque Mi ha regalato Questo gioco Mi ha permesso Di portare questa serie Fatemi sapere Ovviamente ragazzi Voi che cosa Ne pensate Qua sotto In commento Per cui Questo video E questa serie Terminano qui Grazie a tutti Un bacione Gli obdosio a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete Quest'anti aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nei miei social In descrizione E anche il link Per farmi delle donazioni Ciao Ciao